Quando si parla di giardino nei nostri climi, giardino con piante autoctone, giardino mediterraneo, non possiamo ignorare l'ulivo. L'ulivo, secondo me, è un giardino sufficientemente ampio, deve starci. Io ho avuto la fortuna che questo terreno l'ho acquistato e gli ulivi già c'erano. Questi sono ulivi che hanno molti anni. Sono della varietà dritta. Se potete scegliere, se potete acquistare gli ulivi in vivaio, io preferisco altre varietà, perché la dritta non ha un tronco imponente, non ha un aspetto monumentale. Dal punto di vista ornamentale non ha nessun interesse, a mio avviso. Ma naturalmente io la dritta e me la tengo. Quest'anno, tra l'altro, molto carica di olive e quindi probabilmente quest'anno farò anche il raccolto.